Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'irresistibile trama di Terra Amara. L'ombroso Demir sta orchestrando un evento senza preavviso nella loro sontuosa tenuta. Potete immaginare lo stupore di Zuleya quando si rende conto dell'improvviso arrivo di una marea di giornalisti, accorsi alla villa come falene attirate dalla luce. Si chiede perché Demir abbia attirato lì questa processione di professionisti dei media, anche Unkar, al pari di Zuleya, ammette di essere ignara delle mosse di Demir, visto che lui non ha offerto alcuna chiave di lettura. Unkar chiede a Zuleya se fuori dalla villa si stia davvero radunando una folla di giornalisti, Zuleya conferma che la situazione è così surreale quanto sembra, e il brusio dei giornalisti sta solo intensificando il mistero. Le intenzioni di Demir rimangono a volte nell'incertezza, così vedremo Demir fare il suo ingresso. L'interesse di Zuleya tocca nuove vette, e non può fare a meno di interrogare direttamente Demir sul significato di tutto ciò. Demir, fedele alla sua immagine enigmatica, risponde di essere semplicemente il portavoce della volontà popolare, aumentando ulteriormente il senso di suspense. Zuleya cerca di ottenere più informazioni, insiste, ma Demir resta irremovibile nel suo mutismo. Unkar, frustrata, lancia un'accusa verso Demir chiedendo quale mossa stia giocando e perché abbia radunato la stampa. Demir, con un'aria di suprema sicurezza, risponde che tutti devono aspettare, e che tutto verrà svelato al momento opportuno. Quindi, con una mossa decisa, prende in braccio il piccolo Adnan e lo conduce verso il giardino. Cosa nasconde l'inscrutabile Demir? Unkar continua a sondare i pensieri di Demir, chiedendosi quale sia il suo piano, e perché stia portando con sé Adnan. Zuleya si fa avanti, fermando Demir sul suo cammino ed esigendo di sapere dove stia conducendo il bambino. Demir indomito prosegue il suo cammino, mentre Zuleya lo insegue, chiedendo con determinazione dove stia portando Adnan. Unkar esorta Zuleya a mantenere la calma e a lasciare che Demir segua il suo percorso, temendo che la situazione possa degenerare in un incidente di portata mediatica. Con Adnan saldamente in braccio, Demir si presenta all'intervista, rivela il delicato stato di salute di Adnan dopo che si è ferito con la pistola, affermando che le voci stanno infestando la città e che ha deciso che è ora di svelare la verità. Entra in scena Yilmaz, il passato di Zuleya prima di Demir, l'origine delle voci che Adnan potrebbe essere figlio di Yilmaz. Zuleya osserva la scena smarrita, Yilmaz si avvicina cautamente a Demir che prontamente convoca Gulten per affidarle il piccolo Adnan. Comincia a narrare la storia del suo amore per Zuleya, un amore nato all'ombra di un equivoco, credeva che Zuleya e Yilmaz fossero fratelli. Il suo cuore si è sacrificato per lei. Il motivo per cui hanno siglato il loro legame nuziale nonostante la gravidanza di Zuleya sottolinea che ignorava il ruolo di Yilmaz come amore precedente di Zuleya. Quando quest'ultimo è finito in prigione, non si è unito a lei per compassione ma per un amore così profondo che l'ha portato ad accogliere Adnan come figlio proprio, ritenendo che Yilmaz sarebbe stato condannato a morte o destinato a vivere la sua vita dietro le sbarre. Non avrebbe mai sognato che un giorno avrebbe rivendicato il ruolo di padre, il suo amore per Zuleya era tale che non poteva abbandonarla, così ha rischiato tutto per unirla a lui nel sacramento del matrimonio, ma il destino aveva in serbo una svolta imprevista, la liberazione di Yilmaz. Come ben sappiamo, Yilmaz si è sposato e ha avuto un figlio da Mujgan, ma come dice un vecchio adagio, nessun segreto rimane celato per sempre. Ecco perché è accaduto l'inevitabile, Yilmaz ha scoperto la paternità di Adnan, ma Demir con una fermezza che sfiora l'arroganza, afferma di essere ancora il padre legittimo di Adnan. Yilmaz scoppia in una risata amara e Demir si alza in piedi per affrontarlo, dichiarando che benché Akkaia sia il padre biologico del piccolo, lui è il padre autentico, perché avrebbe dato la vita per lui. Yilmaz, sarcastico, gli chiede se si aspetta un ringraziamento per non aver abbandonato Zuleyha incinta, nonostante tutto ciò che ha fatto per lei, insistendo che il suo unico scopo è illuminare Kukurova sulle cause profonde del loro conflitto, e ribadisce con convinzione che Adnan è suo figlio. Zuleyha è attenta ad intervenire, con l'indignazione chiaramente visibile nei suoi occhi, ma Unkar la blocca e la porta a rifugiarsi all'interno della villa. Rispondendo a Demir, Yilmaz sostiene che se è davvero così determinato a svelare la verità, dovrebbe rivelare tutto. Arrivò come un fuggiasco, dovette mascherare la sua vera identità fingendo di essere il fratello di Zuleyha. Rivela che in prigione ha confessato la verità sulla sua relazione con Zuleyha, e che nonostante ciò, Demir l'ha costretta ad unirsi a lui in matrimonio. Con un urlo carico di passione, Demir ribatte che non è colpevole perché non ha costretto Zuleyha a diventare sua sposa bensì la sposata per amore. Yilmaz risponde che è una colpa, perché nessuno dovrebbe amare la moglie di un altro. Demir con una voce che vibra di ribellione grida che se deve essere giudicato davanti a Dio è pronto a subirne le conseguenze. Lancia anche un'accusa a Yilmaz, sostenendo che se non avesse finto di essere il fratello di Zuleyha, Demir non avrebbe mai posato lo sguardo su di lei, avrebbe resistito, avrebbe preferito che la verità fosse stata rivelata sin dal principio, ma è ormai tardi, e il passato non può essere riscritto. Perciò al cospetto di tutti propone un accordo per il bene delle loro famiglie, Yilmaz però lo rifiuta categoricamente, ribadendo che Adnan è nato mentre lui era recluso in prigione. Il vento del disaccordo continua a spirare tra Demir e Yilmaz, troveranno un compromesso o la loro inimicizia degenererà in ulteriori conflitti? Yilmaz ha già svelato la verità, e non permetterà che Demir lo escluda ancora dalla vita del piccolo, di conseguenza Demir risponde con un avvertimento velato, Yilmaz però non si fa intimorire, annuncia che reclamerà il suo diritto di paternità, e se ne va in modo furtivo. Yilmaz si introduce nella villa, e ascolta in segreto la conversazione tra Zuleyha e Unkar. Zuleyha è furiosa, protesta per il fatto che Demir stia discutendo di lei all'aperto senza la sua presenza, riducendola, e riducendo il suo bambino, a semplici pedine in un gioco. Unkar risponde che niente cambierà con questo atteggiamento, e che tutto resterà come prima. Mentre il conflitto tra Zuleyha e Unkar si intensifica, Yilmaz si fa strada silenziosamente nella stanza di Adnan, lo prende delicatamente, e se ne va. Intanto Zuleyha, inquieta, pondera sulle parole di Yilmaz, che aveva minacciato di portare via il bambino. Si chiede con ansia cosa succederebbe se lui dovesse davvero portare via Adnan. Unkar la tranquillizza, sostenendo che non accadrà dal momento che molte persone erano presenti e quella era l'unica cosa che Yilmaz poteva dire di fronte alle provocazioni di Demir. Zuleyha però si tormenta per aver svelato la verità a Yilmaz, temendo che potrebbe essere separata dal suo bambino. Yilmaz esce dalla villa con Adnan, e incrocia Sanie, che sorpresa, non dice nulla. Yilmaz allora mette Adnan in auto e se ne va. Gulten nel frattempo va a dare il latte ad Adnan ma non trovandolo, inizia a cercarlo disperatamente in tutta la casa. Demir fa ingresso in casa e si trova di fronte una Zuleyha infuriata, che lo interroga se davvero ritiene che ciò che ha proclamato in pubblico sia la verità. Demir risponde con fermezza che sì, è la verità. Stupita, Zuleyha gli chiede se ritiene anche vero che avrebbero minacciato di uccidere Yilmaz se lei non fosse diventata sua sposa. Rimprovera quindi Demir di aver manipolato la realtà per i suoi interessi personali, Demir replica, sostenendo che Adnan è suo figlio, e che lui ha sposato lei, quindi questa è la sua realtà. Zuleyha, alzando la voce, gli grida che è ben consapevole che questa non è la verità. Demir però sorride con piaciuto del suo operato, in quel frangente arriva Gulten, visibilmente terrorizzata, un carle chiede cosa sia accaduto, e Gulten con voce tremante dice loro che Adnan non è più in casa. Zuleyha, in preda all'Ira, inizia a cercarlo, entrano nella stanza di Adnan. Non trovandolo, si rendono conto che Gulten diceva il vero. Demir inizia ad accusare Gulten di aver consegnato il piccolo a Yilmaz, lei respinge l'accusa ma lui insiste, gridandole che è una bugiarda. Un car interviene a sua difesa, ma Demir persiste nel suo attacco. Anche Zuleyha si schiera a favore di Gulten, ma Demir risponde con insulti e minacce. Nel culmine del tumulto, Fekeli fa la sua comparsa in casa, e notando il caos, chiede cosa stia accadendo. Demir rilancia l'accusa a Gulten di aver consegnato il bambino a Yilmaz e minaccia di uccidere quest'ultimo per aver preso Adnan. Un car difende con vehemenza Yilmaz ma Demir grida contro di lui, affermando che Yilmaz era lì poco tempo fa, e quindi è il responsabile. Un car sostiene che non è plausibile che Yilmaz abbia portato via il bambino in così poco tempo, considerato il numero di persone presenti. Demir tuttavia è irremovibile nel sostenere che Yilmaz aveva già tutto pianificato e che Gulten gli ha consegnato il bambino. Fekeli quindi chiede ad un car di mettere in salvo Gulten, Fekeli tenta di calmare Demir, assicurando che Yilmaz non avrebbe mai commesso un tale atto e che non avrebbe mai voluto far soffrire Zuleya. Fekeli poi accompagna via Gulten mentre Demir fissa Zuleya con sospetto, interrogandola aggressivamente se fosse coinvolta nel presunto rapimento del bambino. Zuleya gli chiede perché supponga che lei avrebbe potuto fare una cosa del genere, Demir urlando le risponde che farebbe di tutto per Yilmaz e che la farà pentire. Un car conduce via Zuleya, che si allontana in lacrime, mentre Demir comincia a organizzare una squadra armata per affrontare il suo nemico giurato. Riuscirà Demir a rintracciare Yilmaz? E cosa succederà quando lo troverà? E così si chiude questo episodio carico di tensioni, iscrivetevi subito al canale per non perdere la prossima puntata e scoprire come si evolve questa complessa trama. Grazie, a presto!